tu non ho capito no no niente vai le barzellette di danilo sciacchete insieme ci stanno due amici si incontrano lunedì quello gli fa dice a lui ma che dove sei stato che non ti sei fatto vedere il fine settimana sono stato sabato sera a giocare al casino al casino e che ha giocato ai slot machine? ho giocato a roulette a roulette e come è andata? mi sono avvicinato ho messo 100 euro 100 euro mi andava messo su 18 rosso c'è un numero solo così ti sei giocato e che è uscito? è copertica da una parina via 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 18 rosso ammazza che buce uno ma quant'ha vinto? 36 volte sempre a tre volte quello che ho puntato 3.600 euro ammazza 3.600 euro te ne s'ha nato ho ripuntato tutto ha ripuntato tutto 3.600 euro e andava messo 18 rosso ma che sei scema è uscito adesso una torta a 18 rosso e che è uscito? gira 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 di xyczero un'altra volta ammazzache buce quale quante hai vinto? 129.600 euro e i mortacci su come te ne s'ha nata 129.600? gli mosse è uscito tutte ha ripuntato tutto dico ma mica sarei scemo cioè tu ha puntato 130 mila euro è andata a messe 18 e che è uscito via 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 gira di rastrette nero ma adesso è proprio scemo ma adesso è proprio scemo io se non te mi ero mangiato le palle